Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare nell'ambito di quella che sembra un'infinita ricerca del prodotto ideale per registrare lo schermo del proprio pc, vi voglio parlare dunque di un ennesimo programma che è stato sviluppato da un ennesimo sviluppatore che come tutti gli altri ritiene che i prodotti esistenti non soddisfano le sue esigenze, allora anche lui si è messo, questo signore Martin Baertz, credo si pronunci così, si è messo a sviluppare la sua propria soluzione per registrare lo schermo. Ecco, quindi visto che i risultati, il video risultante da questo prodotto, da questo strumento è di buona qualità come per il precedente programma che vi ho già presentato, quindi VocoScreen, ho deciso appunto di dedicare un breve video alla presentazione anche di questa soluzione, che magari può soddisfare più di altri le vostre esigenze. Come sapete dai miei precedenti video io uso attualmente appunto un comando da terminale, ma probabilmente potrei anche passare prima o poi ad usare VocoScreen perché mi ha, come avrete potuto notare nel video di presentazione di VocoScreen precedente a questo, mi ha appunto soddisfatto parecchio e anche le intenzioni di sviluppo futuro di VocoScreen mi soddisfano parecchio, e però nel frattempo, nell'attesa appunto che gli sviluppatori di VocoScreen facciano il loro lavoro, io per il momento decido di continuare ad usare il mio comando da terminale o inizierò poi ad usare VocoScreen prima o poi, però ecco nel frattempo è saltato fuori, diciamo così, dal cilindro del nostro mondo open source anche se SampleScreenRecorder, ecco SampleScreenRecorder è appunto un programma che ha lo scopo, come tutti gli altri, di registrare con varie opzioni lo schermo, cosa succede sullo schermo. SampleScreenRecorder naturalmente ha il suo archivio PPA per essere installato, lo vedete qui sulla pagina, io vi lascerò poi, ovviamente come sapete, vi lascio poi il link della pagina dello sviluppatore nel quale sta scritto poi qua in basso quale PPA archivio repository PPA, aggiungere dei pacchetti, come aggiornare il proprio sistema e come installare sempre ScreenRecorder, le istruzioni ormai sono sempre quelle, quando si ha a che fare con un archivio PPA, sono sempre quelle, si susseguono di volta in volta, non ripeto più in dettaglio come fare, ma lo trovate qui in basso nella pagina di questo sviluppatore, ecco, per avviarlo si va nella Dash, si cerca Sample, eccolo qua, dopo poche lettere appare questa icona con tre lettere SampleScreenRecorder che simboleggiano quello, con i tre colori fondamentali RGB, si fa click ovviamente e si avvia il programma, ecco qua, quindi la prima schermata appare così appunto, SampleScreenRecorder in rosso, verde e blu, RGB. Qui c'è una pagina di benvenuto, praticamente, vabbè, è scritto in inglese, con tra l'altro il link al sito, che è poi questo qua sopra, vedete qua, e si schiaccia continuo per arrivare dove? All'avere propria interfaccia, come riportata anche qui sul sito, di impostazione e delle caratteristiche che vogliamo per la registrazione. Ecco, per difetto è attivata l'opzione per registrare tutto uno schermo e qui c'è la tendina per registrare eventuali più schermi, cioè se voi avete connesso al vostro PC due più schermi, con questa menu tendina, vedete che qui appare in alto a sinistra Screen1, perché io ho un solo schermo, se ce ne fossero di più, qui potete scegliere quali o tutti gli schermi o quale schermo specifico registrare, se fossero qui elencati, All Screen vuol dire tutti assieme, quindi un mega schermo registrato, oppure uno specifico schermo. Oppure come in praticamente tutti questi programmi si può anche selezionare un'area, si può chiedere di seguire il cursore del mouse, quindi un'area che segue registrando un'area del mouse, seguendo i movimenti del mouse. Oppure ecco, una caratteristica particolare e al momento che io sappia, esclusiva di questo strumento, è pur essendo ancora sperimentale, vedete sperimentale, vuol dire sperimentale, quindi non è detto che funzioni, è una funzione ancora sperimentale, di registrare con le funzionalità, con le caratteristiche OpenGL, che sono le librerie grafiche che usano i giochi. Ecco, quindi se volete registrare, almeno quanto dichiarato sul sito, delle giocate con i giochi in buona qualità, potete usare sempre Screen Recorder con questa opzione attivata. Quindi voi avete il gioco che tipicamente occupa tutto lo schermo, solitamente i giochi occupano lo schermo intero, voi registrate con questa caratteristica e dovreste riuscire ad ottenere una qualità video ottimale anche con i giochi, pur mentre state giocando. Poi qui ci sono le varie velocità video con per difetto 15, che è un classico, eccetera, eccetera. Se volete scalare il video, ovvero ridurlo o modificare le dimensioni del video, mentre viene già registrato, si deve registrare anche il cursore oppure non vedersi il mouse, praticamente nel video senza mouse, sì o no. L'audio, lasciate pure default, quindi per difetto, registra dal microfono. E una volta impostate tutte le caratteristiche, si fa ancora un'ultima volta a continuo, e qui si può dire con quale formato registrare fra vari contenitori di formato audio-video e codifica video, quindi quella libera, un po' meno libera, H.264, eccetera, eccetera, e anche l'audio libero o MP3 un po' meno libero, eccetera, eccetera. Quindi qui si sceglie le caratteristiche del video risultante della registrazione, si fa ancora, si dice dove volete che venga salvato il vostro video che vorrete registrare, fate ancora una volta a continuo, e qui siamo finalmente alla schermata di partenza. Quindi se si preme questo pulsante, ora non lo faccio perché sto già registrando, comunque start recording, inizia la registrazione del video. Qui si può vedere addirittura star preview anche un'anteprima, un'anteprima del video e dell'audio per vedere se funziona tutto bene prima di partire, ed eventualmente dover buttare via un video, magari in che lungo, perché non ci si accorge che non funziona bene. Qui mostrerà una volta che registra il tempo che sta passando, la grandezza del video che sta registrando, eccetera, eccetera. Qui enable recording hotkey serve per crearsi uno scorciatoio da tastiera, una volta che avete nascosto questa finestra che sta registrando, uno scorciatoio da tastiera per far partire o mettere in pausa, rispettivamente ripartire e mettere in pausa la registrazione del video. Ecco, perché una volta nascosta la finestra, senza questo, dovreste richiamare la finestra e fare start e stop da questo pulsante qua. Però, con questa scorciatoio da tastiera potete anche nascondere così, mentre registrate, e schiacciare la scorciatoio da tastiera che decidete di attivare qua, con le varie combinazioni di tasti. In questo caso, per esempio, qui, non mi ricordo più se l'avevo già impostato io e quella per difetto, comunque, CTRL più SHIFT più P mi metterebbe in pausa il video, rispettivamente me lo farebbe ripartire. Alla fine si chiude, si stoppa la registrazione, si termina, scusate, la registrazione, e poi si può terminare il tutto col pulsante qui in basso, save recording, ovvero salvare definitivamente il vostro filmato nella cartella del passo precedente. Oppure cancel recording per abbandonare il programma come farò adesso. Ecco, diciamo che ha le sue caratteristiche interessanti questo strumento, si ottengono anche un video di buona qualità, sia audio che video. Diciamo che rispetto a VocoScreen, che io continuo a preferire, non ha l'immediatezza, per esempio, della finestra che si nasconde da sola quando parte la registrazione, per esempio, non ha le funzionalità tipo lo zoom attorno al mouse, la piccola area zoomata attorno al mouse a portata di click, così come l'attivazione della webcam a portata di click, non ha o non ha ancora queste caratteristiche integrate, forse perché a questo sviluppatore non interessano quelle caratteristiche, ma ne interessano altre, tipo la registrazione ottimale di giocate, dei giochi, per esempio, probabilmente, che non è presente in altri prodotti. Ecco, quindi tutto qui non è difficile da usare, poi essendo simile anche ad altri prodotti, una volta abituati a uno, le caratteristiche sono poi sempre quelle, si fa cancel recording, e così si può tornare al wizard, quindi all'assistente di impostazione della, vedete, della registrazione, quindi si può andare avanti, tornare indietro come si vuole. Ecco, si chiude con la X qua in cima, perché non c'è menu sulla barra, sul pannello qui, non è previsto un menu per questo prodotto. Ecco, tutto qua, provate a usarlo, se vi soddisfo potete adottarlo, se no, appunto, potete vedere sulla playlist del mio canale le varie opzioni, i vari strumenti presenti attualmente sul mercato, diciamo così, dell'open source, alcuni più vali, altri meno, come ho già avuto modo di dire, ognuno scelga il suo e quello che preferisce. Ecco, con questo termino, questo breve video di presentazione dell'ennesimo prodotto di registrazione dello schermo, sperando che un giorno ci sia quello veramente definitivo, al momento, per quanto mi riguarda, i due candidati migliori sono pur sempre questo comando da terminale e Vocoscreen, allo stato attuale. Vedremo in futuro come evolveranno le cose. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, un saluto, ciao ciao, alla prossima.